Gentili amici della provincia di Cuneo, a tutti buonasera. Il pallone anticiclonico in Atlantico continua a far sì che le perturbazioni giungano tra ovest e nord-ovest, quindi nessuna possibilità che possano portare delle precipitazioni che possono definirsi tali. Quindi sono ancora lontane o proprio non si vedono per niente. Però con queste perturbazioni non è escluso che sulle creste qualche fiocco di neve possa vedersi, soprattutto la prossima notte, nella seconda metà della prossima notte, e un'altra tra giovedì pomeriggio e giovedì sera. Però vi avviso già fate attenzione al vento perché potrebbe di nuovo ripetersi questo rinforzo del vento con il fium e temperature soprattutto verso mercoledì o giovedì, domani o giovedì, che possono rasentare di nuovo i 18 gradi in pianura. Ma vediamo con ordine. Sereno o poco nuvoloso? Qualche velatura? Attualmente lo zero termico è intorno ai 2300 metri. Culmine della temperatura massima oggi in pianura è intorno ai 11-12 gradi. Domani, da poco nuvoloso, il cielo diventerà nuvoloso, soprattutto sulle Alpi Cozzie, con la possibilità, come vi dicevo prima, che sulle creste si veda qualche fiocco di neve intorno ai 1500 metri. Rinforzo del vento prima da ovest e poi da nord-ovest, forte sulle creste. Minima domani mattina in pianura di 2 gradi, la massima intorno ai 16-17. Comincia il fium. Ora vediamo giovedì, poco nuvoloso o velature, dense durante il pomeriggio. Il fium piuttosto forte e sempre temperature che possono arrivare a 18-19 gradi di pomeriggio in pianura e la minima notturna però restare intorno ai 3 gradi. Forte aumento dello zero termico, forte salita dello zero termico, che si porterà intorno a 2.000-2.200 metri. Bella giornata quella di venerdì, con uno zero termico intorno ai 3.000 metri e temperature in aumento, il vento moderato. È tutto, grazie e buonasera.